Il coordinamento della Casa delle Culture torna all'attacco. Si dice che le bugie abbiano le gambe corte e così vengono rapidamente svelate. La Giunta Comunale ha chiuso l'esperienza della Casa delle Culture a decorrere dal 31 maggio. La motivazione principale, sostenuta fin dall'inizio in tutte le comunicazioni e le discussioni in Consiglio Comunale, è stata quella degli eccessivi costi che sarebbero diventati più contenuti attraverso la gestione diretta dei servizi da parte del Comune. Come aveva ribadito lo stesso Assessore Tanti qualche giorno fa, nella nostra trasmissione Nero su Bianco, i servizi della Casa delle Culture costavano 110.000 euro l'anno per un servizio che possiamo fare allo stesso modo a costi più contenuti. Adesso la Casa delle Culture chiusa, dicono dal coordinamento, penseranno gli aretini quindi con i servizi gestiti direttamente dal Comune e i soldi si risparmieranno. Ma con la delibera 301 del 31 maggio scorso, la Giunta Comunale ha affidato il compito di gestire alcuni dei servizi presenti alla Casa delle Culture alla Fraternita, con un'apertura dello sportello al pubblico inferiore a quella precedente, 24 ore settimanali contro le 33 precedenti, a un costo di 101.870 euro annui. Si è realizzato, secondo il coordinamento della Casa delle Culture, un piccolo risparmio, ma il costo resta sostanzialmente analogo a quello precedente. Non solo, insistono le associazioni, ma con questa cifra sono pagate dal Comune, sempre sulla base del progetto approvato con la di Libera, anche attività come dopo scuola e corsi di italiano che prima erano realizzate dalle associazioni senza oneri per l'amministrazione e sono naturalmente cancellate tutte le attività delle stesse associazioni che non costavano niente al Comune. Praticamente, dice il coordinamento, la stessa cifra di prima per avere molto di meno e soprattutto senza alcun coinvolgimento dell'associazionismo locale. Per il coordinamento è stata quindi raccontata una bella bugia per giustificare una scelta esclusivamente ideologica che ha privato la città di una struttura essenziale per la conoscenza e il dialogo tra culture ed esperienze diversi.